ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi se vi piace questo video lasciatemi sotto nei commenti un cuore grazie prima di iniziare vi voglio presentare questa bellissima collezione di gennaio della marca madame glam questi colori li vedo perfetti per il mio set grazie a tutti grazie a tutti uso la matita per segnarmi i contorni delle rose mescolo due tonalità di rosa con bianco per ottenere tutte le sfumature che mi servono disegno metà dei contorni della rosa con rosa chiaro e non lo polimerizzo in lampada grazie a tutti aggiungo l'altra metà con colore rosa più scuro e non lo polimerizzo in lampada grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti come grazie a tutti una grazie a tutti grazie a tutti come Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando ho finito polimerizzo in lampada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con base gel sfumui contorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aggiungo qualche contorno alle folie con paint nero senza dispersione. Con paint bianco senza dispersione aggiungo dei contorni molto sottili alle rose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con la matita mi segno la posizione del mio disegno. Grazie a tutti. Aggiungo i due colori alle rose e li sfumo tra di loro con base gel. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aggiungo i contorni più scuri e li sfumo con base gel. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con paint bianco senza dispersione. e disegno il pizzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.